Ma che poi mi dicono che parlo da solo, io non parlo mai da solo, no, ritorniamo a dove eravamo, di cosa stavamo parlando? Eh sì sì sì, ma mi risponda, quindi il gallo è il vostro marito e scegliete voi con chi fare certe cose oppure lui che comando io e robe varie? Ah non vuole affrontare il discorso, ho capito, mi risponda in un'intervista con i... Ditemi pure la vostra, comunque siete splendide, siete proprio davvero splendide, belle belle belle!